Gianni Visnadi, stimato giornalista sportivo, solleva interrogativi intriganti sull'acquisto da parte della Juventus di Alcaraz, giocatore argentino arrivato da poco dal Southampton. I dubbi espressi da Visnadi gettano un'ombra di incertezza su uno dei trasferimenti più chiacchierati della finestra invernale, fornendo ai tifosi nerazzurri un'analisi acuta e dettagliata dei dettagli controversi di questa mossa di mercato. Il giornalista inizia la sua analisi evidenziando la complessità e, secondo lui, la poca chiarezza dell'operazione che ha portato Alcaraz alla Juventus. L'espressione è la storia meno comprensibile o risuona come un monito per tutti, indicando che in questa trattativa ci sono più sfumature di quanto appaia a prima vista. Metti mi piace al video e iscriviti al canale per non perdere le prossime novità Inter. Visnadi sottolinea la natura del contratto di prestito, definendolo alto, prevedendo un importo minimo di 3,9 milioni per soli quattro mesi. Questa cifra considerevole fa sollevare le sopracciglia, soprattutto considerando lo status di Alcaraz come un 21enne che deve ancora guadagnarsi un posto da titolare nella Serie B inglese. La giustificazione di questo sostanziale investimento in un giocatore che deve ancora dimostrare prestazioni eccezionali solleva interrogativi sulla strategia e sulle aspettative della Juventus. Le critiche di Visnadi non si limitano al costo del prestito, ma si estendono anche al prezzo di riscatto proposto, che definisce Kinsensato. La cifra esorbitante di 49,5 milioni e oltre rafforza le perplessità attorno a questa operazione, soprattutto considerando il livello di esperienza e di riconoscimento dell'Alcaraz nel panorama calcistico europeo. Uno degli aspetti più intriganti evidenziati da Visnadi è il fatto che l'Alcaraz non era titolare nella Serie B inglese. Questa constatazione mette in discussione la motivazione della mossa della Juventus, portando tifosi e analisti a chiedersi quali siano le reali potenzialità del giocatore e se sia la scelta giusta per rinforzare la rosa della squadra torinese. L'analisi approfondita di questo trasferimento da parte di Visnadi offre una visione più approfondita delle motivazioni e delle strategie alla base delle scelte di mercato della Juventus. La trasparenza e la giustificazione di investimenti significativi nei giovani talenti emergenti sono sempre motivo di interesse per i tifosi, e la valutazione critica di Visnadi provoca una necessaria riflessione sulle scelte del club. Qual è la sua opinione sui dubbi sollevati da Gianni Visnadi? Siete d'accordo con le analisi sull'alto costo del prestito e sul prezzo di riscatto insignificante? Lascia il tuo commento qui sotto e metti mi piace al video per non perderti le prossime novità.